Robert Dubois In galera per aver sparato a Superman un proiettile alla kriptonite Non c'entro nella sua Suicide Squad Si vedrà Tra non molto andrò al processo Ella Waller dice che tu mi puoi aiutare Sta minacciando mia figlia! Abbasate le armi Miss Waller io non... Giù le armi! Non ricorrerei a misure estreme Se questa missione non contasse più di quanto tu possa immaginare Sei con noi o no? Bene Ti presento il team Ogni elemento viene scelto per la sua gamma di capacità Che lo rende unico e speciale Ciao a tutti! Ho fatto tardi! Mi scappava il bisognone Ci fa piacere Questo coso è un cane? Un cane? Che cane può essere mai? Io dico levriero afgano Oddio! È un lupo mannaro forse! Sta vicino a un lupo mannaro! Oh, scacchami! Ehi, non è un lupo mannaro, ok? È una donnola, è innocuo Cioè, non proprio, ha ucciso 27 bambini La vostra missione è distruggere ogni traccia del progetto Starfish Domande? Starfish sarebbe la stella marina Servirà un'esca? No Niente È un suicidio È la nostra specialità Sono un supereroe! È mio padre Ti farò uscire viva da qui Io farò uscire te vivo da qui Ratatouille, che mi dici? Piccione Nanaue, non ti intromettere! Sous-titrage ST' 501